Per una presunta tangente per i lavori di realizzazione di tre lotti dell'autostrada Siracusa-Gela, il GIP di Messina ha disposto l'arresto di sei persone, tra cui Duccio Astaldi, presidente del Consiglio di Gestione della Condotte S.p.A., impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, il presidente del Consiglio di Amministrazione della COSI GESCARL, Antonio D'Andrea, e l'ex capo della segreteria tecnica dell'ex presidente della regione, Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto. La misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano, Gaspare Sceusa. Astaldi, D'Andrea, Polizzotto e Sceusa sono stati posti ai domiciliari. Misura cautelare in caccia invece per il finanziere Nicola Armonium, Antonino Gazzarra, vicepresidente del CAS. Le accuse formulate dalla procura di Messina sono a vario titolo di turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e corruzione. L'indagine, che nasce da una segnalazione alla procura della città di Messina da parte del TAR, a cui avevano fatto ricorso le ditte scuse alla gara di affidamento dei lavori, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. Oltre ai sei colpiti da misura cautelare, sono coinvolte nell'indagine cinque persone, tra cui componenti della commissione che avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte per l'affidamento delle opere. Pietro Mandanici, Sebastiano Sudano, Antonino Recupero e Corrado Magro. Indagato anche Maurizio Trainiti, direttore generale protempore del CAS. Grazie a tutti.